Buongiorno a tutti, per me è veramente un privilegio oggi presentare questo bilancio 2013-2015 perché ha un particolare significato per questa amministrazione perché è anche il primo anno in cui abbiamo fatto e siamo partiti con il piano di reclusione, particolarmente significativo perché poi nasce in un momento di grande indeterminatezza di alcuni fattori rilevanti e riferisco fondamentalmente ai trasferimenti erariali, abbiamo la certezza del taglio, potrebbe essere addirittura 80 milioni, abbiamo però un'indeterminatezza di questo valore come abbiamo ancora una partita in sospeso che è relativa alla riforma del limo che voi tutti state seguendo sui giornali e che in qualche modo influenza la programmazione di un ente. È necessario fare un passo indietro perché questa amministrazione ha ritenuto opportuno fare un'operazione verità che è un'operazione che in qualche modo è rappresentata da questa slide attraverso la quale noi abbiamo fatto pulizia, trasparenza del bilancio del nostro ente perché c'erano valori che non erano più in linea con quella che è poi la realtà delle cose, andando poi a influenzare la programmazione dell'ente facendo sbagliare probabilmente anche un intervento strutturale all'interno dell'ente. Ci siamo voluti dare questa regola, quindi siamo partiti con un forte disavanzo, una registrazione in forte disavanzo e con questo forte disavanzo abbiamo ritenuto opportuno questa amministrazione attraverso il sindaco e tutta l'amministrazione di fare forti stanze all'amministrazione centrale per riconoscere quindi che erano le ragioni di questa amministrazione per recuperare e risanare l'ente. Le regole che ci sono state fidate, che sono il 174 e il 35, sono regole molto stringenti, non sono né regole, ci siamo parlati di regole né popolari né elettorali ma io dico regole strutturali, regole attraverso le quali si è ritenuto opportuno seriamente e concretamente entrare nella programmazione di risanamento. Le regole sono scritte in questa slide e che in qualche modo ci ricordano che il piano di riequilibrio ci impone la leva fiscale al massimo, ci impone la copertura degli interventi relativi ai servizi a domande individuali, ci impone un piano di smissione, ci impone di tenere in equilibrio la parte corrente del bilancio, cosa che non era stata mai fatta negli anni passati, ci impone un risparmio di spese sulle partecipate del 20%, ci impone una riduzione degli interventi di 0,3 e 0,5 rispettivamente del 10 e del 25%. Un'operazione veramente dura però abbiamo avuto il coraggio di affrontarla. Attraverso questi due strumenti che dicevo molto forti che è il decreto 174 e il 35% però abbiamo avuto una forte evoluzione dei flussi finanziari perché attraverso il 174 abbiamo ricevuto già un'anticipazione di 58 milioni e aspettiamo di arrivare a un complemento di circa 220 milioni, circa 170 milioni come leggendo. Con il decreto 175 è stata veramente una bellissima scommessa e qui io devo ringraziare non solo per il bilancio, per il lavoro che hanno fatto i servizi finanziari ma ringrazio anche il mio assessorato, l'ufficio del dottor Zoff che mi ha dato un mano fino ad adesso a preparare le slide che purtroppo io non riesco a vedere ma comunque va bene così. Questa operazione con la 35% ci ha consentito di sistemare o di avviare la sistemazione di una nuova questione di questa amministrazione, cioè un cronologico fermo da anni, cioè parliamo di 54 mesi di ritardo sui pagamenti, qualcosa che non è concepibile perché muore un sistema, muore un'economia e quello che abbiamo rappresentato al governo centrale perché la vera manola doveva essere questa. Quando dicevamo facciamo un'operazione trentennale i funzionali della regione del generale dello Stato dissero no non è possibile, poi invece abbiamo visto che si poteva fare perché il decreto 25 contiene quelle che erano le nostre istanze che a Roma facciamo, quindi un'operazione che ci ha consentito che cosa? Di ricevere almeno sulla carta 596 milioni e di fatto la prima annualità pari a 296 milioni, ulteriori 296 milioni dovrebbero arrivare nel 2014 ma probabilmente potrebbero essere anticipati addirittura nell'annualità 2013 e questa è un'operazione molto interessante perché se vediamo dalla slide successiva abbiamo un'accelerazione fortissima del risanamento dei conti del nostro ente perché noi siamo partiti con un disavanzo di 850 milioni se leggende, abbiamo ridotto già con il rendiconto 2012 di 67 milioni e siamo arrivati a un disavanzo di 784 milioni, con gli snesti delle anticipazioni che abbiamo ricevuto e con il piano di dismissioni arriviamo addirittura a ridurre al 3.12.2013 a 237 milioni di disavanzo, cioè da 850 arriviamo a 237 milioni, se poi addirittura l'arriva l'anticipazione del decreto legge 35 del 2013 già a settembre-ottobre del 2013 addirittura come potete leggere, l'abbiamo visto in grassetto perché questa è la notizia, arriviamo ad avere un avanzo di 59 milioni, che cosa significa questo? Significa che il piano di dismissioni di 700 milioni che avete visto nella slide precedente che deve supportare il recupero del disavanzo non sarà più utilizzato già a partita del 2014, non sarà più utilizzato per la copertura del disavanzo perché lo abbiamo già fatto in questa operazione ma potrà essere utilizzato innanzitutto per ottemperare a un dettato normativo di rilanciare un piano caso, cioè nel senso poter rilanciare un piano casa, poter rilanciare un piano di investimenti in senso generale perché se prima eravamo obbligati quei 700 milioni a ripianare il disavanzo, liberando il disavanzo perché lo abbiamo completamente ammortizzato, questi 700 milioni nelle annualità a decorre potranno consentirci di fare un piano di investimenti. La cosa interessante che diceva la slide precedente che io non ricordavo è che se andassimo a creare un surplus di cassa già nel 2016 con sei anni di anticipo potrebbero uscire dal prediscesso. Significherebbe poter andare a Roma e dire non abbiamo più bisogno di queste regole, siamo usciti dal prediscesso, quelle condizioni invece all'indotto ad aderina il 174 sono andate via, quindi addirittura prima dei 10 anni, prima dei 5 anni della prima normativa, quindi in 4 anni siamo riusciti a fare tutto, questa è una operazione interessante. Vediamo questo bilancio, io l'ho chiamato un bilancio a progetti, perché l'ho chiamato un bilancio a progetti, l'ho chiamato un bilancio a progetti perché innanzitutto abbiamo con la ristrettezza delle nostre risorse che voi conoscete bene, abbiamo detto di fare cose importanti, cose prioritarie, quali? Innanzitutto il bilancio delle manutenzioni e della riquurifiziazione dell'edilizia urbana e anche delle edilizie scolastiche, se vedete i fondi che sono stati appostati sono di considerevole entità, abbiamo 7 milioni per la protezione delle strade, 2 milioni date nel pronto intervento stradale, 2 milioni e in mezzo, 5 milioni per la protezione delle scuole e poi abbiamo affidato alle municipalità, e questo è un altro elemento di novità che vedrete poi nell'altro slide sarà ricorrente, le municipalità dovranno attivamente collaborare con l'amministrazione centrale, abbiamo affidato 11 milioni e abbiamo detto 1 milione sono 10 milioni di municipalità, avete 1 milione a testa, dateci i progetti canteriali su temi particolari, importanti, parchi, giardini, riqualificazione urbana, questi devono darci la possibilità di riqualificare tutto il territorio, sul territorio ci sono le municipalità e prima ancora di noi possono avere chiaramente contezza di quelle che sono le esigenze di quel territorio. Poi abbiamo detto che bisogna fare un investimento forte del turismo e infatti con il protocollo di intesa e con la destinazione vincolata con un incremento di risorse che già erano riviste del bilancio precedente abbiamo introdotto il 30% di riscosso, di accertato dell'imposto di soggiorno destinato a che cosa? Al compatto del turismo, quindi una parte di questa attività ma addirittura destinata a specifiche attività in favore degli albergatori, quindi abbiamo oggi un milione e mezzo che vengono a destinare, oltre quelle che sono le risorse che standard, in maniera standard viene affidata al compatto, un milione e mezzo che viene destinato con un vincolo, con un capitolo ben specifico per il compatto turismo, quindi questa è un'ulteriore novità ed ecco il progetto. Poi ci sono i grandi progetti, ma io credo che forse è il sindaco che interverrà, perché ci sono diversi progetti, ci sono i grandi progetti dove sono allogati 580 milioni di risorse nel bilancio, chiaramente quale non c'è il centro storico, il forum, e poi c'è il discorso della linea metropolitana 1, l'apertura della stazione di Piazza Garibaldi, ma io ho letto anche di questo ulteriore avvio dei lavori per quanto riguarda Piazza Garibaldi, quindi questo è un altro aspetto. Le strategie che ci siamo dati sono di diverso tipo, abbiamo delle strategie che sono interne all'amministrazione relative al contrasto all'evasione, abbiamo letto sui giornali, si dice che l'amministrazione e il comune di Napoli non hanno fatto segnalazioni qualificate, io dico che il 99%, se abbiamo letto tutti quanti la tabella del Sole 24, sappiamo tutti che il 99,99% dei comuni non hanno fatto segnalazioni qualificate, perché è una nuova filosofia che stenta ad essere metabolizzata dall'amministrazione. Noi attraverso queste operazioni abbiamo ritenuto opportuno avviare questa attività, l'abbiamo fatta, soprattutto con l'organizzazione delle nostre banche dati e quindi un'azione diretta alla lotta all'evasione andando a coinvolgere tutta la macchina comunale, perché prima che cosa succedeva? Succedeva che si interagiva solamente con i servizi dell'accertamento, della riscossione e notizie, magari l'ufficio patrimonio aveva una notizia che poteva servire al servizio di riscossione, quindi due mani due persone che stanno vicine ma non diavoli, quindi si è riuscita attraverso il coinvolgimento tutto la macchina universitaria a poter mettere in campo una serie di servizi. Ovviamente per fare una vera e concreta lotta all'evasione c'è necessità di fare i servizi anche le municipalità e quindi ecco perché dicevo che era ricordante, è la polizia normale. Abbiamo detto alle municipalità e alla polizia, abbiamo detto, noi così come è prevista la norma che sulle segnalazioni qualificate il gettito ricavante dalle segnalazioni qualificate va all'amministrazione comunale, tutto il 100%, noi mutuiamo questa normativa, la decliniamo sulle nostre municipalità attraverso che cosa? Le municipalità ci fanno la segnalazione qualificata e il ricavato del 50% viene retrocesso alla municipalità per progetti ovviamente sul territorio di quella municipalità, quindi un'azione fattiva, progettuale di intervento e di sinergia con le partecipate. Poi ci sono una serie di accordi estendi, quindi delle sinergie che abbiamo messo in campo nel anno 2013 e sono innanzitutto questo proprio volo di intesa che non è solo una firma, una sigla che il sindaco ha messo a posto con l'agenzia delle entrate con Emitale e la Guardia della Finanza, ma è stato già costituito il tavolo tecnico per le segnalazioni qualificate, quindi abbiamo l'esperienza e il know-how che ha in questo momento l'agenzia delle entrate perché hanno acquisito una serie di esperienze in diversi altri territori, tutti ovviamente del nord e le stiamo in qualche modo cercando di assorbire e metabolizzare per cercare di fare anche questo tipo di attività. Poi abbiamo fatto un accordo con gli albergatori, a valle di quell'accordo che prevede anche il 30% dato gli albergatori, abbiamo addirittura, quel voto gli albergatori per le segnalazioni, noi abbiamo una serie di realtà all'interno delle strutture scientifiche che non pagano i posti di soggiorno, oppure che potrebbero in qualche modo fare anche una segnalazione di diversa di posti di soggiorno, quindi anche con gli albergatori ci siamo attivati, ovviamente siamo andati incontri a loro come vedrete poi nella strada di successiva perché hanno avuto anche un risparmio di posti di soggiorno. Così come con l'intesa con gli inquilini, con i sindacati sia degli inquilini e dei proprietari ed anche un potenziamento con l'ente di discussione che è in Italia Sudpolis attraverso che cosa? Il contrasto ai grandi morosi, vengono individuati i grandi morosi con i quali devono pagare più di 20.000 euro. Stiamo iniziando ad aggredire questa fascia importante di evasori per poi scendere alla fascia intermedia, quella per 10.000 euro e poi a scavare. Quindi questa è una relazione che stiamo portando avanti. E queste poi sono le manovre che interessano il bilancio in senso stretto. Abbiamo innanzitutto, ho letto sui giornali, su qualche quotidiano, faccio nomi di quale quotidiano, che abbiamo innalzato le tasse ma non è vero per nulla perché abbiamo rispettato quello che abbiamo fatto l'anno precedente. Il 2013 è uguale al 2012, quindi non c'è nessun innalzamento, non l'allarmiamo alla popolazione perché non c'è nessuna aumenta, anzi addirittura abbiamo un'accevolazione. Abbiamo innanzitutto un'accevolazione importante che è quella tradizionale Iperf, se voi vedete oggi su Italia Oggi c'è uno specchietto degli scaglioni di esenzioni fatte dagli altri comuni. L'unico comune che si è avuto il coraggio di arrivare a esenzioni di 18.000 euro è uno di Napoli. Massimo sono arrivati a 13.000-14.000 euro. Noi ci siamo attestati a 18.000 euro come soglia di esenzioni. Quindi una buona fetta di contribuenti, i nostri contribuenti, se guardiamo la media del PIL, del reddito dei nostri contribuenti, vedete che sono tutti in questa fascia, tutti risparmieranno, la maggior parte risparmieranno. Quello che sono sopra ovviamente avranno quello 0,2% di più che avevano già l'anno scorso e non è che un incremento di quest'anno. Poi per quanto riguarda l'Imu, l'Imu è una partita aperta in questo momento, si parla adesso di service tax perché dovrebbe assorbire e accorpare Imu e Tales, quindi è un ragionamento temporaneo, riguarda solo il bilancio 2013, non riguarderà probabilmente la programmazione del 2014-2015, vedremo cosa succederà nel settembre, ma comunque abbiamo che cosa previsto? Abbiamo previsto una fascia, una tipoda ridotta all'otto per mille per i contratti a canone comportato. Questo consentirà due cose, a riabbassare ovviamente i canoni, due a far uscire, a far emergere anche qui il sommerso, cioè i redditi che è usciranno dalla dichiarazione dei fitti che prima non c'erano. Poi un'ulteriore invece, agevolazione vado per le giovani gruppi, per le giovani gruppi addirittura scendiamo a 6,6 per mille, cioè siamo quasi all'abitazione principale, l'abitazione principale è 6 per mille, noi ci attestiamo a 6,6 per mille. Nessun comune ha fatto un'operazione generale, noi sappiamo che i giovani è una risorsa che in questo momento ha questo territorio e noi dobbiamo andare in questa direzione. Il bilancio in tante azioni che fa pone nell'accento dell'attenzione il pianeta Gioni, ma anche l'amministrazione all'interno della sua squadra, un assessore proprio delegato e con la sensibilità di Gioni. Poi abbiamo sulla TARES invece il grande tema, noi veniamo dalla TASU, la filosofia della TIA non la avevamo, chi viene dalla TIA sa qual è la filosofia oggi della TARES, perché la TARES nasce un poco dall'evoluzione della TIA, la TARES invece è un'altra cosa. La TARES che è una tariffa su rifiuti e servizi in effetti fa commisurare la tariffa in base alla produzione di rifiuti. Più le famiglie sono numerose, più ho un metri di guardia a disposizione, devo pagare di più, più la mia attività commerciale produce rifiuti, devo pagare di più. Quindi è chiaro, una gianelleria non produce rifiuti di una pescheria, ma questo è evidente voglio dire, e quindi purtroppo il pescivindolo è penalizzato rispetto al cittadino, perché sembra un paradosso guardando due ceti sociali che potrebbero immaginarsi diversi e invece purtroppo viene penalizzato. La TARES è composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte fissa è quella che ci dice il ministero di applicare benisseguamente, c'è una classificazione molto fitta, quindi non si può sbagliare, per esempio i musei, i teatri, i cinema hanno una bassissima risparmiano rispetto alla TARES, altri invece, le pescherie, le salomerie, le macerie invece sono penalizzate. Noi abbiamo introdotto attraverso il nostro regolamento alcune agevolazioni, abbiamo innanzitutto ridotto la percentuale di metri quadrati, del 20% su cui applicare la tariffa e poi sui coefficienti minimali, variabili, noi avevamo un range, la parola prevede un range, un intervallo minimo massimo in cui intervenire, noi ci siamo attestati sul minimo, quindi quando parliamo di aumenti di TARES non sono di pesi dall'amministrazione, questo io ci tengo a dire, perché ci siamo attestati al minimo delle tardi coefficienti e alla tariffa del coefficiente fisso, quello doveva essere, è quello che dobbiamo applicare. In più abbiamo premesso innanzitutto questa riduzione, questa è una novità importante, il compostaggio domestico, cioè introdurre il compostaggio domestico ci consente di avere una riduzione del 30% del costo della tariffa, questo è un aspetto importante. E poi abbiamo previsto la riduzione delle superfici, delle attività e poi una riduzione per le associazioni che gestiscono beni confiscati alla criminalità età organizzata o anche quelle delle associazioni che svolgono servizi della salvaguarda dell'ambiente oppure della produzione civile. Poi abbiamo visto due o tre fasce per coprire un po' alcune caratteristiche del territorio decisamente, quindi abbiamo introdotto una serie di correttivi a una TARES che purtroppo ci vincola ad aumentare, io abbiamo fatto un attimo il capo, siamo sul 12-14% di incremento generale, ma dobbiamo dire che questo 12-14% contempla all'interno i 0,30 centesimi che noi riscodiamo, siamo sostituti di imposta per il governo centrale, prendiamo i 30 centesimi a metro quadrato e li dobbiamo versare al governo centrale, quindi non sono soldi nostri, quindi in questi 14% c'è anche questa luna. Sull'imposta di soggiorno la cosa importante era quello che dicevo, abbiamo, qualcuno ha detto, parlando prima, ma voi avete innalzato di un euro l'imposta di soggiorno, non è vero, noi abbiamo innalzato di un euro ai 5 stelle che sono tre alberghi e penso che chi va in 5 stelle può pagare un euro l'imposta di soggiorno e più, però abbiamo ridotto sui 3-4 stelle di 50 centesimi, quindi questo è l'aspetto fondamentale. E poi abbiamo, nell'accordo con gli alberghi, abbiamo riconosciuto loro anche le spese vive sulla riscossione, perché sono loro sostituti imposti nostri profondi, fino a raggiungere il 3% e viene riconosciuto anche questo tipo di attività, vogliamo creare sinergia attivamente con coloro i quali sono gli operatori del nostro territorio, perché solo attraverso questa operazione riusciamo a mettere in capo tutte le forze per poter poi dire siamo entrati in una normalità di gestione, perché il piano dell'equilibrio, ricordato che stesso, ci può una serie di vita. Abbiamo introdotto le azioni con azioni agevolative per coloro i quali sono stati purtroppo vittime del crollo della riviera di Chiara, abbiamo appostato 300 mila euro sul nostro bilancio che vanno nella direzione dell'esenzione, al 50% se ricordo male, dell'IMU, della TARES e l'esenzione per il periodo dell'acosto, quindi una sensibilità voluta rappresentare nei confronti con i quali hanno subito questo disastro. Poi il bilancio contiene quello che abbiamo fatto, perché se ci sono spazi finanziari che si sono potuti utilizzare per altre attività, lo abbiamo anche perché siamo partiti con la riorganizzazione partecipata, è partita la holding, abbiamo in consiglio comunale approvato la holding, la holding ovviamente contemplerà ANM, e qui c'è il Presidente Fornisano che il saluto, abbiamo costituito questa società di cui verrà contemplata, è già contemplata Metronapoli e ANM e a settembre entrerà pure Napoli Barchi, il periodo diciamo di Napoli dei barcheggi, degli stati, perché poi la Napoli Barchi sarà una holding pura e quindi continuerà il processo di razionalizzazione che ha proposto il campo. L'altro aspetto fondamentale, e che lo vediamo già nel bilancio, è il rafforzamento che abbiamo fatto a Naro Sedizio. Naro Sedizio avevamo un contratto di 58 milioni, siamo passati a un contratto di 72 milioni. Facendo questa operazione abbiamo internalizzato le attività che faceva Romero, risparmiando almeno 5-6 milioni rispetto a quello che faceva Romero. Siamo partiti un poco pian pianino, però probabilmente già nel 2014 andiamo in un altro regime e questo minimo chiaramente di disagio nel fare questo passaggio di consegne sarà assorbito sicuramente già nel 2014. Questo ci consente di fare un'operazione importante perché Napoli Sedizio è diventato attraverso la delibera di consigli comunale una società di interesse generale. Poi sono partite altre attività sulle partecipate, c'è una gara europea per il filtro di aziende per il termine di Agnano, c'è l'allenazione della quota posseduta dalla situazione, adesso formalizzando con il mio assessorato la proposta formale di vendita e poi c'è l'ascensione di Napoli Azienda di Sirena che stiamo seguendo attentamente per risolvere il problema perché Sirena è un patrimonio di conoscenze e di esperienze che deve essere sicuramente sanorata. Io credo che mi fermerei qui quindi vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, buongiorno, saluto il Presidente Capasso della Commissione Bilancio, gli altri consiglieri, il Presidente Formisano e la stampa. Ieri abbiamo approvato un bilancio politico, direi che è un bilancio significativo del giro di boa di questa amministrazione. Io ovviamente non ripeto le cose dell'assessore Palma, cerco di fare delle valutazioni politiche. La prima è che noi abbiamo ereditato un cadavere che non era putrefatto ma era un cadavere e se riusciremo a realizzare quello che è stato illustrato là e lo realizzeremo noi il 2014 saremo in avanzo, questo in due anni. Se oggi i cittadini e se in questi due anni hanno pagato delle imposte alte e per chi ci ha lasciato il baratro è ancora oggi alla disonestà intellettuale di pontificare a mezzo stampa. Di questo voglio essere molto chiaro e preciso perché questa amministrazione sta facendo operazioni strutturali, non operazioni di immagini, di marketing che anche servono a questa città. Questo bilancio è un bilancio strutturale. Grazie alle lotte politiche che ha fatto questa amministrazione, questo Consiglio Comunale, componenti di questa città, Lanci e altri sindaci, con la manifestazione unica nella storia della politica italiana di un Consiglio Comunale tenintosi a Montecitorio, noi abbiamo ottenuto quei numeri, abbiamo ottenuto il decreto legge 35, il decreto legge 174. Dalle notizie del Ministero dell'Interno noi dovremmo avere tra fine ottobre e inizi di dicembre 800 milioni di Euro complessivi, tra 35, 174 e trasferimenti nazionali. Significa che noi col gennaio 2014 saremo un Comune virtuoso in due anni. Questa è una notizia di verità, sono numeri che parlano ed è la politica che ha realizzato questo, non le hanno realizzate né manine che ci hanno aiutato, anzi molte manine ci hanno anche ostacolato in questi due anni. È una battaglia, è una lotta politica del primato della politica. Vorrei ricordare le operazioni strutturali che sono state messe in campo sulle società partecipate, la più grande holding del trasporto pubblico che il Paese conosce in questo momento, non solo il Mezzogiorno d'Italia, avere il coraggio di abbandonare una strada scellerata dell'esternalizzazione del patrimonio pubblico, internalizzando e sfidando su questo punto la città, volendo attraverso del primato della politica dimostrare che col pubblico si può governare bene, con le mani pulite, con l'efficienza e con la riduzione dei costi, in un momento storico in cui ancora il pensiero unico liberista che predomina nel nostro Paese ci vuole dire che noi dovremmo privatizzare tutto. Ecco, Napoli si sente all'avanguardia in questo, lo dice senza presunzione ma con grande orgoglio, come il nostro modo di lavorare sempre. Nonostante quel cadavere putrefatto, quel cadavere non putrefatto che ci hanno consegnato, noi in due anni, in predissesto, abbiamo mantenuto la spesa sociale, oggi con questo bilancio aumentiamo le risorse, per questo è un bilancio politico, per il trasporto pubblico, per le scuole, per le strade, per gli asili nido, per il sociale, per la cultura, per i grandi progetti. Mentre ci sono grandi città italiane che chiudono l'asili nido, noi rafforziamo la riflessione e rafforziamo la scuola pubblica nella nostra città. L'assessore Palmas è dimenticato di dire un'altra cosa importante ma io lo ringrazio perché lui e l'assessorato hanno fatto un lavoro straordinario e finalmente abbiamo un assessore tecnico che è diventato politico, perché io sto amando sempre di più la politica e soprattutto i tecnici che diventano politici sono il risultato secondo me più importante. Noi siamo scesi sotto il 50% del personale, questo significa che noi faremo un'altra cosa storica nei prossimi settimane, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, faremo i concorsi, quello che dice la Costituzione Repubblicana, finalmente concorsi interni, esterni, faremo scorrere le graduatorie, stabilizzeremo progressivamente gli LSU, le maestre. Quella battaglia storica di questa amministrazione per le maestre e per la scuola pubblica sta facendo il giro d'Italia, nonostante l'informazione non la racconti, sta facendo il giro d'Italia attraverso i sindacati, attraverso le maestre, attraverso la scuola pubblica. Io è chiaro, lo so che queste cose possono sorprendere perché lo facciamo solo con le nostre mani e con la nostra passione, che non significa che questo bilancio ovviamente non sia ancora un bilancio doloroso, perché è chiaro che noi stiamo per virare, stiamo per fare il giro di boa, quindi ancora teniamo sulle nostre spalle, nostro intendo di cittadini napoletani, il peso di quelle pagine vergognose in cui si nascondeva la spesa per fare debiti fuori bilancio. Bene, per la prima volta noi abbandoniamo definitivamente questa politica, che è la politica del trucco, dei politicanti, di quelli che cercano il consenso del domani per poi andare a chiedere il voto e farlo diventare voto di scambio. Oggi rifacciamo un'operazione strutturale, di cui se ne beneficerà soprattutto il prossimo sindaco di Napoli, non questo sindaco. Io credo che questo significa fare politica cambiando il corso delle cose. E lo voglio dire anche allo Stato centrale, e io ringrazio il Presidente Fassino dell'Anci che ha cominciato a fare uno straordinario lavoro e noi sindaci lo faremo sempre di più. Basta con i comuni Bancomat, perché poi ti fa capponare la pelle, ti fa voltare lo stomaco, aprire un giornale e leggere quasi che sono i comuni che alzano le imposte, sono i comuni che mettono tributi, sono i comuni che mettono le imposte. Sostanzialmente lo Stato centrale che mette, prende e incassa. Pure questa battaglia dell'Imu, noi non ci vogliamo entrare. Decidesse lo Stato centrale quale deve essere le imposte dei comuni, noi mettiamo le imposte, noi vogliamo essere autonomi. Questa è la grande battaglia dei prossimi anni, l'autonomia, l'autonomia delle comunità, le autonomie dei sindaci, le autonomie dei territori. Questo è il vero federalismo di cui un Paese dovrebbe appassionarsi, cioè il federalismo ha fatto delle autonomie. Noi vogliamo essere autonomi, Napoli è stata capitale e ha l'ambizione di essere autonoma, non voglio dire capitale perché sennò si apre uno scenario preoccupante. Autonomia, io sono sempre stato autonomo, il termine autonomia mi è sempre piaciuto, ma andrò giù. Io sono autonomo, noi siamo autonomi, vogliamo essere autonomi. Napoli ha le capacità per essere autonoma. Quindi lo Stato centrale decida, decidano Berlusconi, Letta, decidano loro che vogliono fare del limo, non c'è appassione a questo tema. Decidano quello che vogliono fare, noi siamo pronti ad accettare questa grande sfida. Poi sono anche altre novità che poi leggerete perché voi siete molto attenti, e questo sarà molto importante per i cittadini, tra l'altro ad agosto i giornali si leggono con molta attenzione, anche su cose che sembrano minori. Cosa? No. Abbiamo introdotto un principio importante, tutte le manifestazioni che si faranno in città e che hanno caratterizzazioni di utilità sociale non si dovrà pagare solo pubblico. Noi dobbiamo incentivare la vita a questa città. Qua c'è gente che mette catene, mette lucchetti, vuole recintare piazze, noi le vogliamo liberare. Io sono il sindaco che rompe lucchetti. C'è qualcuno che mette lucchetti e ne vada a rompere, senza fare reati, è una rottura immaginaria. È la rottura dei lucchetti. Poi il Tarra sancisce che quella è la buona strada, quindi non c'è operazione più legale di questo tipo. Noi siamo per la legalità costituzionale, qualc'altro è per la legalità burocratica a fine a se stessa. Noi siamo per un'altra legalità, anche questa è una rivoluzione. Qualcuno ci accusava che noi siamo accentratori. L'assessore Palma ha prima fatto un passaggio politico molto importante. I soldi alle municipalità. Le municipalità devono avere autonomia politica, autonomia nelle decisioni, però devono essere responsabilizzate. Basta flussi di soldi che poi si perdono in gare, garette, uffici, non si comprende, i soldi poi non si spendono. Avete i soldi finalizzati a progetti esecutivi nell'interesse dei cittadini e siete voi municipalità, come è giusto che sia, politicamente a decidere le vostre priorità. però i soldi vanno poi gli spesi. Voglio ricordare il passaggio politico che abbiamo introdotto sulla tassazione in materia ambientale. La Tares, voi sapete, non è una tassa che può decidere il Comune, è un'altra eredità. Però in quella eredità, nella discrezionalità che ci viene riconosciuta, noi abbiamo introdotto un principio che è fortissimo per la rivoluzione ambientale che questa amministrazione sta portando avanti con coraggio, la riduzione del 30% per le famiglie e i condomini che fanno il compostaggio condominiale, 30%. Questo è un incentivo a tutti i condomini, a tutti gli amministratori, a tutte le famiglie, a tutta quella grande maggioranza di cittadini napoletani che amano fare la differenziata e che hanno comportamenti virtuosi a cominciare a gestire in modo autonomo la raccolta dei rifiuti. Quindi questo ti consente anche di avere una riduzione del peso economico nel portafoglio. Poi dei passaggi importanti che si trovano nel bilancio anche sulla cultura, perché siamo andati a intervenire anche su temi che ci facevano soffrire, non si aveva la possibilità di poter ottenere strutture per realizzare iniziative culturali, i grandi progetti. Vorrei ricordare oggi di cui si parla la battaglia al Cipe per il prolungamento della linea 1 e quindi poter far arrivare la metropolitana all'aeroporto è soprattutto una battaglia di questa amministrazione. Io lo vorrei dire, ma io vorrei che la città sapesse i passaggi fatti con la presenza del Consiglio, con il Ministero, anche qui superare gli ostacoli. C'era ancora chi non voleva che la metropolitana arrivasse all'aeroporto, perché poi questa è una città bizzarra, c'è anche chi sostiene che non sia necessario che la metropolitana arrivi all'aeroporto. Quindi questo è un altro successo incredibile. I grandi progetti significano centinaia e centinaia e centinaia di posti di lavoro, le operazioni sul turismo, migliaia di posti di lavoro. Quindi questo è un bilancio politico. I grandi progetti, voi lo sapete, anche ieri in giunta abbiamo approvato credo altre 5-6 delibere. Si stanno facendo gare e gare e gare su strade, grandi progetti, qualificazioni del territorio e finalmente c'è chi partecipa alle gare. Quindi questa amministrazione ha dimostrato di essere credibile, di essere forte, di avere un Consiglio comunale che sta crescendo e una città che sta comprendendo. Questo significa che aumenteranno anche gli ostacoli. Ma noi siamo consapevoli della sfida, siamo consapevoli che vogliamo allargare alle forze politiche che credono in questo progetto. Io sono convinto che si sta consolidando sempre di più un movimento, un partito, un'idea, una sensibilizzazione sulla città. Si stanno riducendo le contrapposizioni ideologiche e allargando invece le maglie di coloro i quali vogliono partecipare a un nuovo modo di fare politica, è quello dello stare insieme, pur nelle diversità, per realizzare l'interesse dei cittadini. Quindi io avverto veramente che questo è un momento importante. Sono certo che il Consiglio comunale saprà anche migliorare questo bilancio. Ci aspetta un percorso, a parte una pausa di qualche giorno di ferragosto, importante da fine agosto in commissione bilancio. Dovremmo fare un tour de forze entro metà settembre. Come potete vedere rispetto ad altri comuni abbiamo anche sul bilancio precorso e anticipato i tempi. E anche ancora una volta, chiudo su questo, in questo bilancio c'è la sottolineatura dell'apprezzamento e anche delle attese fondate che noi abbiamo nei confronti del nostro personale. Cioè noi siamo convinti che questa sfida si vincerà se la stragrande maggioranza del personale pubblico di questa città, dall'amministrazione locale centrale di Palazzo San Giacomo alle municipalità alle partecipate, comprenderà che questa è una sfida che serve alla città, serve al lavoro. E poi da ultimo, lo voglio dire, in questi due anni così difficili e anche in questo bilancio ce ne traccia. E anche l'accordo fatto ieri con i dipendenti Bagnoli Futura e faremo lo stesso a breve con i quattro di Sirena. Noi non abbiamo licenziato un lavoratore. Io accolgo nel mio ufficio dipendenti di altre aziende che appartengono a altri enti pubblici, a cominciare la Regione, che vengono dal Sindaco di Napoli chiedendo che il Sindaco di Napoli possa fare qualcosa per loro perché ci danno atto che noi non abbiamo licenziato un lavoratore. Io vorrei che queste cose cominciassero a passare nell'informazione, perché io non so quante amministrazioni avrebbero fatto questa battaglia in predissesto mantenendo la stessa capacità di lavoro. Noi avremmo potuto fare un'operazione molto semplice due anni fa e probabilmente avrei avuto ricadute di consenso politico personale maggiori. Beh ci avete lasciato questo cadavere, non putrefatto, ma cadavere. Io metto fuori un di gente, pigliatevela Cugliervolino, Bassolino, pigliatevi chi volete voi. Io sono appena arrivato, ero un cittadino napoletano, facevo altra cosa. Invece noi abbiamo guardato in faccia i lavoratori, magari molti dei quali anche che appartengono a stagioni politiche completamente diverse dalle nostre. Per noi sono lavoratori e li abbiamo salvati. Per noi questa è una grande sfida di dignità e di rispetto del lavoro, che è il primo articolo della Costituzione Repubblicana. Quindi oggi sono, pur nelle gravi difficoltà, sono contento perché per la prima volta, rispetto ad alcune chiacchiere del passato da parte di chi aveva anche preceduto l'assessore Palma, c'è stato un bilancio politico, politico, con la tecnica, perché ci sono i numeri. Quindi noi siamo a disposizione per le domande, vi distribuiremo, credo ovviamente, come è giusto che abbiate diritto, i dati tecnici perché il bilancio va letto anche negli aspetti ragioneristici, tecnici e numerici. Ovviamente siamo a disposizione anche nei prossimi giorni, per qualsiasi chiarimento, io starò qua al Comune, se voi volete, perché credo che sia giusto che i cittadini siano informati in modo corretto, in modo preciso. Tra l'altro, ripeto, ad agosto i giornali che se ne possa pensare, secondo me si leggono anche di più. Quindi mi auguro che la stampa sappia fare un lavoro preciso, perché qua si parla di carne viva e si parlano dei problemi effettivi della gente, quindi illustriamo in modo corretto la situazione, le prospettive e le problematiche. Quindi se ci sono domande, noi stiamo qui. Posto.